E' una sanità che si sta curando, è una sanità che cresce, è una sanità che dà risposte ai cittadini, non basta, questo è un polo d'eccellenza, di alta specialità, su cui ovviamente dobbiamo dare risposte perché è importante salvare vite. Oggi ci saranno altre notizie molto importanti, significative, che daremo nel pomeriggio sugli investimenti che stiamo facendo per migliorare non soltanto le reti di eccellenza come il San Camillo, ma anche tutto il territorio. Quindi oggi è una bella giornata per la sanità laziale, consentiremo di dire grazie non soltanto al direttore Mostarda del San Camillo, a tutto il suo staff, ai tecnici che hanno realizzato tutto questo, ma anche a tutto lo staff della regione Lazio guidato dal direttore Urbani perché è stato un lavoro davvero tecnico, non facendosi tirare per la giacchetta. Qui c'è uno studio analitico di tutte quelle che sono le necessità, di tutti quelli che sono i fabbisogni, è un lavoro lento ma inesorabile, lento purtroppo perché comunque per troppi anni sono mancati i dati, sono mancati i flussi, è mancata la lettura dei dati e dei flussi, che è cosa che noi stiamo facendo per capire anche come si spostano i nostri cittadini all'interno della regione, quali sono le reali mancanze. Qui oggi abbiamo una risposta sull'alta specialità importantissima, oggi pomeriggio annuncieremo una straordinaria risposta per quello che riguarda i fabbisogni del nostro territorio, qualcosa che mi sento di dire senza precedenti.